Allora nei giorni scorsi abbiamo firmato il contratto con la ditta che deve iniziare i lavori alla Caserma Piave nell'ambito della rigenerazione urbana e ieri abbiamo firmato altri due contratti con le ditte per l'avvio dei lavori alla Crepadona per il progetto della cosiddetta Mediateca delle Dolomiti e finalmente alla Scuola Gabelli per la sua completa ristrutturazione e rigenerazione. Quindi è un momento molto importante perché aprono altri tre cantieri della rigenerazione urbana che si aggiungono a quello del ponte del Gresal e abbiamo quindi superato una serie di ostacoli molto importanti che ci erano stati creati come ricorderete mesi addietro per via del ripensamento che aveva avuto lo scorso governo sulla rigenerazione urbana che aveva bloccato e congelato i fondi che erano a nostra disposizione e che poi sono stati finalmente scongelati e quindi abbiamo perso un anno. Ora ripartiamo, abbiamo solo perso un anno e abbiamo perso per strada anche una ditta perché il piazzato della stazione doveva essere già partito in verità a quest'ora anzi i lavori dovevano essere quasi conclusi, abbiamo perso la ditta giudicataria invece proprio perché il blocco imposto dal governo l'ha fatta rinunciare quindi siamo indietro su questa opera. Molto importante tutta questa fase perché finalmente dà via un grande progetto è un progetto che complessivamente porta nella città quasi 35-36 milioni di euro di investimenti 18 dei quali vengono dal governo italiano e ci permette di riconvertire strutture abbandonate aree abbandonate in valore socio-economico quindi in territorio utile ai nostri cittadini e lo facciamo senza consumare territorio quindi preservando il nostro paesaggio preservando il nostro ambiente che in una fase come quella attuale credo che sia una delle priorità assolute per tutti noi.